Giornata importante quella di oggi qui a Roma. Oltre 11 autobus sono partiti dal Monese per chiedere certezza a Stellantis, per chiedere un futuro per tutti i 2000 lavoratori che attualmente occupano lo stabilimento Stellantis di Termoli. Abbiamo bisogno di progetti nuovi, di nuove motorizzazioni per lo stabilimento e soprattutto la conferma del progetto Gigafactory. Noi crediamo che un territorio così importante non possa essere abbandonato e lasciato solo.